Perché probabilmente ci si riferisce al fatto che la pappa culturale a disposizione dell'italiano medio è fabbricata secondo un codice che non corrisponde alle esigenze poi della stessa realtà. Direi che così come ci fu un maestro Manzi per insegnare l'italiano, per insegnare a leggere e a scrivere agli italiani, adesso sarebbe opportuno un maestro Manzi che per esempio svelando la realtà che abbiamo intorno al cortile italiano insegnasse per esempio la geopolitica che non è un esercizio di stile né tantomeno una prova di erudizione ma serve a dare la possibilità ai nostri figli di prospettive che altrimenti verrebbero negate. Significa che per esempio nella pappa dell'opinione pubblica italiana si comincia a distinguere sui fatti e sulle situazioni a noi vicine di conflitti che non sono soltanto beghe lontane ma che ci riguardano tantissimo proprio perché sono l'immediato futuro con cui faremo i conti. Il fatto stesso che i nostri ragazzi non abbiano l'ansia di immaginarsi in Occidente ma abbiano la possibilità di conoscere quello che succede ad Oriente significa che i nostri ragazzi avranno la possibilità di costruire il loro futuro e quindi il deficit culturale probabilmente si riferisce proprio a questo al fatto che non viene offerta questa nuova possibilità tant'è vero che certi argomenti sono considerati tabù perché vengono considerati di scarso interesse laddove dimostrato e credo che le altre aziende televisive l'abbiano sperimentato che certe prove, perfino prove sofisticate, prove culturali alte siano invece foriere di ottimi risultati e questo lo dice perfino il passato della RAI proprio se parliamo di deficit culturale volendo parlare di ricchezza culturale bene, il passato della RAI coincide con una produzione di eccellenza che non ha paragoni io personalmente nella mia esperienza radiofonica a Radio 24 mi misuro ogni giorno con Giovanni Minoli e ho capito di misurarmi con lo stile RAI con un metodo RAI e quindi con una capacità di lavoro mostruosa, efficiente utilissima anche per sperimentare il futuro dopodiché nel deficit culturale io credo che debba essere considerato anche un altro aspetto il fatto che in Italia non c'è mai stata la possibilità di dare voce alle tanti voci faccio un esempio concreto se per esempio nella pappa culturale a disposizione dell'italiano medio è facile individuare per esempio Pierpaolo Pasolini come patrimonio comune è complicatissimo per l'opinione pubblica italiana del cittadino medio individuare perfino Giovannino Guareschi è complicato per l'immaginario italiano identificarsi con una parte di Italia che è stata sempre rimossa che coincide poi con la stragrande maggioranza degli italiani e quindi concludo per superare la soggezione con le parole del poeta Ezra Pound quando diceva la libertà di parola senza la libertà di parlare al microfono è un regalo fatto a Stalin bravo grazie a tutti